Attenzione, il 500 ce l'abbiamo noi sotto, ci mettiamo dietro. Allora, adesso tu ti do la direzione, aspetta. Allora, allo stop, direzione Alessandria, ha preso per Alessandria. Va bene, va bene, mi sei avuto. Vai, vai, vai. Vado io, vado io che c'è traffico, vado io che c'è traffico. Arriviamo, arriviamo. Ci siamo dietro, sta andando verso la rotonda. Sì, ci stiamo seguendo, stiamo dietro, stiamo superando un po' il traffico della statale. Dai, venite che ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ok. Dai, vicino, sbrigati, sbrigati, dai. Lo blocchiamo la rotonda. Vai, taglia la strada, taglia la strada. Ok, ce l'abbiamo, dai. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.